Una tecnologia rivoluzionaria dedicata al benessere che fornisce un report personale basato sull'influenza dell'epigenetica. S-Drive, presentato questa mattina a Medibio, funziona convertendo le frequenze delle onde naturali emesse dai campioni di follicoli di capelli in un file digitale che viene inviato al centro informatico di Hamburgo. Un modo del tutto nuovo dunque di fare prevenzione. Dieci anni di ricerca scientifica hanno permesso ai ricercatori, grazie alla tecnologia russa e tedesca, di mettere assieme un dispositivo veramente importante in grado di mappare quelle che sono le interferenze della nostra salute. S-Drive è un dispositivo naturalmente per la prevenzione, non fa diagnosi, ma ci permette proprio grazie al bulbo di un capello di leggere le informazioni che vengono accumulati proprio dall'ambiente e anche da quelli che sono poi gli stili di vita che oggi sappiamo interferiscono e danneggiano moltissimo la nostra salute a cominciare dai campi elettromagnetici, l'aria che si respira. Bene, questo dispositivo ci permette di fare la differenza, di fare finalmente prevenzione. Non più solo genetica dunque, ma avere proprie strategie di ottimizzazione personale. Il 98% dell'espressione delle nostre cellule è coordinato dall'epigenetica, epi, supra la genetica, cioè il rapporto fra la nostra genetica e l'ambiente intra ed extra che condiziona il funzionamento dei nostri sistemi biologici. Oggi siamo qui a presentare anche un nuovo dispositivo che permette di misurare, questo è importantissimo, questa è la vera rivoluzione, A presto.